Una pagina con più di 1800 mi piace, in cui vengono esaltati i detenuti, massacrati i pentiti e dati messaggi in linea con una mentalità limite della legalità. È Onore e dignità, pagina creata da Vincenzo Torcasio, detto Giappone, condannato dalla sentenza Andromeda a scontare 30 anni di carcere. Ora il testimone di giustizia Roccomangiardi, che da tempo si spende nelle scuole per diffondere la cultura della legalità e della fiducia nella giustizia e nello Stato, chiede che quella pagina sia oscurata. L'ho voluta segnalare soprattutto pensando al sacrificio che io, tante persone, stiamo facendo con gli incontri che facciamo nelle scuole con i ragazzi, cercando di parlare di legalità. E non possiamo certamente permettere che ci siano altre persone che parlino al contrario o presentano nei loro profili foto con le pistole, salutino i compari in tutte le parti del mondo, parlino di persone in galera, parlano di ergastolani, difendano gli ergastolani. Ecco, questo non ce lo possiamo permettere. Dopo la segnalazione di Mangiardi, Torcasio ha eliminato alcune delle foto più scabrose dalla pagina, ma non dal suo profilo personale, dal quale continua a dire la sua, in particolare sui pentiti. Tiziana Bagnato per la C News 24